Trasformare gli scarti d'uva in prodotti di bellezza è l'idea al centro di un progetto di ricerca dell'Università di Cagliari. Maria Valeria Vendemmia. Usare i resti della lavorazione della vite per realizzare integratori alimentari e cosmetici che attraverso nuove nanotecnologie rendano maggiormente disponibili i principi attivi per l'organismo. Con l'obiettivo finale di promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e sostenere la nascita di nuove start-up e questa è la finalità del progetto Best Mad Grape presentato all'orto botanico dai docenti all'Università di Cagliari. Viene effettuato un monitoraggio costante delle piante moltiplicate e sulla base dei risultati che si otterranno si verificherà quali sono i vitigni più resistenti, quelli che possono portare anche una coltivazione più mirata a vantaggio quindi dei produttori, degli imprenditori che stanno di fatto alla base del progetto Best Mad Grape. Finanziato dall'Unione Europea per 2 milioni e 600 mila euro, il progetto si inserisce nel programma europeo NCB Med gestito alla Regione Sardegna. Ha come finalità da un lato l'innovazione tecnologica, dall'altro il lanzamento dei livelli di occupazione con coinvolgimento ovviamente di un tessuto imprenditoriale e formazione di giovani e donne. Al progetto infatti, oltre ai partner internazionali di Libano, Tunisia e Giordania, partecipano anche incubatori di impresa. Siamo convinti che questo progetto può portare un grande valore aggiunto e siccome il lato scientifico del progetto sta lavorando su molte varietà di uve che possono essere valorizzate pensiamo che gli imprenditori di tutto il Mediterraneo, inclusa Italia e Libano possano collaborare affinché il progetto abbia successo.